Chiamarco, una bellissima partita, lo possiamo dire, tra due grandi squadre. Sì, sì, complimenti anche a loro che hanno fatto veramente un'ottima partita, ce l'aspettavamo perché studiandoli abbiamo visto che avevano grosse e grosse qualità. Noi abbiamo approcciato nel migliore dei modi sin dall'inizio e abbiamo fatto davvero una gran partita anche noi. Onore a noi ma onore anche agli sconfitti che escono a testa alta da questo palazzetto. Dopo la prima non vi siete più fermati? Sì, forse c'è proprio servita da lezione la prima partita nell'approcciare ogni singola partita con lo giusto atteggiamento. Quindi non tutti i mali vengono per nuocere, credo sia andata bene come è andata. Credo che avete ancora margini di miglioramento. Sì, sì, abbiamo margini di miglioramento. Oggi c'è stato un cambio di formazione, ha giocato Renato Ricco, l'altro palleggiatore. Quindi piano piano stiamo trovando anche altre soluzioni che ci permettono di variare anche nel gioco e nella formazione. Ho visto Lorenzo che spesso chiamava il pubblico ad incitare la squadra. Sì, è sempre più spesso, soprattutto le partite in casa ma anche quelle fuori perché abbiamo un buon seguito anche in trasferta. Stiamo avendo una buona risposta dal pubblico e questo non ci può che far piacere per far crescere ancora di più il movimento. Ora c'è una partita davvero difficile. Sì, abbiamo due partite consecutive, una è andata. La prossima, se possibile, è ancora più difficile di questa. Però noi con questo atteggiamento possiamo andare veramente lontano e giocarcela con qualsiasi squadra. La prossima, se possibile, è ancora più difficile di questa. La prossima, se possibile, è ancora più difficile di questa.